Operazione antidroga della polizia di Fano coordinata da Stefano Seretti che ha portato a due arresti effettuati in altrettanti distinti interventi. Il primo riguarda un tunisino di 32 anni, disoccupato e residente in città, finito in manette per i reati di spaccio, detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Era lui il terminale della droga nella continuazione delle indagini che da marzo ad aprile avevano portato all'arresto di due nigeriani giunti a Fano in treno con ovuli di eroina nascosti nell'intestino. Il tunisino ne era il regista e si occupava quindi dello smercio al dettaglio dell'eroina sulla piazza Fanese. Spaventato dall'arresto dei due colleghi, aveva trasferito la propria base operativa dalla stazione ferroviaria a un appartamento nel quartiere Centinarola, in via Monfalcone, dove i clienti potevano acquistare lo stupefacente al primo piano dell'abitazione e trattenersi per consumarlo. Gli agenti hanno effettuato un'irruzione in tardanotte, quando era rimasto solo in casa, ma il 32enne ha tentato di scappare, scavalcando un balcone e iniziando a correre lungo la strada Flaminia. Raggiunto si è scagliato contro i poliziotti che sono riusciti poi a bloccarlo. Sequestrati nell'appartamento circa 170 grammi di eroina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e occultati negli slip indossati dall'uomo circa 8.000 euro in contanti, ritenuti provento di tre giorni di spaccio, considerando che la droga fruttava al pusher 60 o 70 euro al grammo e che riusciva a guadagnare illecitamente fino a 2.000 euro al giorno. L'uomo tra l'altro era già conosciuto alle forze dell'ordine per reati specifici. A suo carico inoltre risulta un arresto per violenza sessuale avvenuto a Padova lo scorso inverno. Il nostro lavoro si basa anche su un monitoraggio, su delle analisi che noi effettuiamo sul territorio. Abbiamo visto che c'è stato un aumento sicuramente del consumo da parte di giovani e giovanissimi nel comune proprio di Fano. Quindi i nostri controlli si concentrano proprio in quelle zone dove sappiamo incontrare giovani, giovanissimi, in questo caso il Lido di Fano, ma non solo. Anche la stazione è un altro sito molto sensibile in questo senso e queste operazioni si sono concentrate proprio in queste due località. Poi dalla stazione siamo risaliti ad un covo, diciamo proprio vero e proprio, situato in periferia dove il principale spacciatore di eroina aveva stabilito la sua base di spaccio e di consumo anche da parte di tossicodipendenti. In manette è finito anche un ventenne marocchino residente a Saltara per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Notato da una volante al Lido di Fano tra il sottopasso di Viale Cairoli e la passeggiata di Via Cesare Simonetti, ha cercato di sbarazzarsi di una busta di cellofan alla vista dei poliziotti, ma è stato fermato dopo pochi metri. Nella busta c'erano circa 90 grammi di hashish, mentre nella fessura di un muretto è stato rinvenuto un bilancino di precisione. La droga era destinata ai giovani e in particolare ai minorenni. Gli arresti sono stati entrambi convalidati, nel primo caso il malvivente, lo spacciatore, è ancora in carcere in custodia catelare, mentre invece il secondo, dopo la convalida, ha ottenuto gli arresti domiciliari.